I finanziari della Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona, in collaborazione con la stazione di soccorso alpino di Roccaraso e sotto la guida del capitano Cecilia Tangredi, hanno arrestato un cittadino marocchino per spaccio di droga in una zona isolata a Prezza. L'operazione è nata da un'indagine che aveva individuato un attivo commercio di sostanze stupefacenti da parte di persone di nazionalità marocchina. Durante la perlustrazione della zona, i militari hanno scoperto un bivacco usato come base di spaccio, con strutture e materiali per sopravvivere in montagna. Gli spacciatori avevano posizionato recinzioni e un cancello improvvisato per avere il controllo visivo sugli acquirenti. All'arrivo dei finanzieri, due sospetti sono fuggiti verso il bosco. Uno è stato fermato e trovato in possesso di hashish, cocaina, eroina e 189 euro, presunto provento dello spaccio. L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Sulmona, in attesa di convalida.